È arrivata un po' di pioggia a risolvere in parte il problema dei cattivi odori in centro storico dopo la Notte d'Ebissau. Il problema ormai si ripete da tempo in occasione dei grandi eventi di massa in Piazza del Popolo. L'ultima Notte d'Ebissau, la prima peraltro dopo la pandemia, non ha fatto eccezione e ha portato in centro migliaia di persone. Fra questi molti maleducati che hanno utilizzato angoli vicoli e frentini come bagna a cielo aperto. Fino a lunedì, quando è iniziata a cadere la pioggia, passeggiando per le piccole vie era ancora forte il cattivo odore dovuto alle incombenze fisiologiche. Zone più martoriate sono stati come sempre gli isolati attorno a via 20 Settembre, via Laderchi, via Micheline, vicolo Diavoletto, via Dei Remoti, via Santo Stefano e poi via Bertolazzi, vicolo Pasolini, affacciati su Corso Mazzini o ancora vicolo Sant'Antonio e via Manfredi, traverse di via Torricelli. Si è parzialmente salvato dalla maleducazione, questo volta il Duomo di Fenza, dove erano stati installati due bagni chimici, ma soprattutto dove è stata presente la Polizia Locale dell'Unione della Romagna Faintina. Costretta a multare diversi automobilisti che avevano parcheggiato la propria vettura in zone chiusa al traffico, che dovevano rimanere libere per permettere ai mezzi in servizio per la festa di raggiungere più facilmente un'area di carico e scarico merce vicina agli stand gastronomici dei Rioni. In via Barilotti continua però ad essere un prezioso nascondiglio per i maleducati la scala in legno per accedere al Duomo. Così, nonostante ormai siano passati alcuni giorni dal grande appuntamento di richiamo di inizio anno, che sancisce la firne dell'anno rionale all'inizio di quello nuovo, fino alla pioggia di stamani, molti residenti si lamentavano ancora una volta dei cattivi odori e delle pessime abitudini. Così, nonostante ormai.